Uomini, il delitto è di affare! Respezziamoci! Perquisatemi quell'obiettivo! Carro nemico! Visto! Visto! Grazie a tutti. Attenzione, mitragliatrice nemica! Ho lanciato una granata! Via! Granata! Occhio! Granata lanciata! Occhio! No! Un carro de nico! No! 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 Oh my god! Venivo, lo nemico! Lo vedi? Guarda il tiro! Giù! Giù! Veniva, vedi. Come te la fai? Massimo, all'està! C'è un bombardiere! Non c'è un bombardiere! Non c'è un bombardiere! Venivo, lo nemico, avvistato! Venivo, lo nemico, localizzato! Attenzione, in cielo, aereo! Oddio Fliturio Fliturio La! È un aereo nemico! 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 Occhio! Un carro! La! È un aereo nemico! 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 Noamico! Noamico! Non è pesa! Devi iniziare insieme! Rifettiamolo qui! Assaltatore, localizzate! Granata partita! Tenete giù la testa! Questa granata è tutta per loro! Sì! Ecco, una granata per il nome! Un video �amaran �izzate ease su risposta! Capra che la funzione! La storia rifertaì! Molto un bra Michigan. Questa enhanced! iani sicuramente, Milano è limitato! Luci! Luigi Mi orang